Abbiamo sempre sospettato che i raggi cosmici, i protoni, fossero accelerati nelle supernove. Non abbiamo mai avuto la prova sicura di questo fatto. Adesso invece la prova c'è e c'è grazie ai dati raccolti da due satelliti per astronomia gamma che sono in orbita in questo momento, da un lato satellite agile dell'Agenzia Spaziale Italiana, dall'altro satellite fermi della NASA, al quale l'Italia partecipa con una grossa fetta dello strumento e con moltissimo lavoro di analisi dati. Sono due resti di supernova che ci forniscono le prove e uno lo vediamo proprio qui. È questa sorgente qui, in mezzo tra la Pulsar del Granchio, la Crab e la sorgente Gheminga. Si chiama IC443, mentre l'altra è nel mezzo del piano galattico e si chiama W44. Sono due resti di supernova di media età, non sono giovanissimi ma non sono neanche vecchissimi e hanno una particolarità molto interessante. Stanno interagendo, cioè la bolla di gas si sta espandendo contro una nube molecolare. Quindi ci sono i due ingredienti che sono necessari per produrre i raggi gamma a partire dai protoni. Da un lato i protoni accelerati dalle onde d'urto della supernova e dall'altro dei protoni che sono lì fermi a farsi colpire dalle particelle accelerate. È da questa collisione tra protoni che nascono i raggi gamma che noi vediamo e a questo punto siamo in grado di provare attraverso i raggi gamma il sito di accelerazione dei protoni dei raggi cosmici.